Ciao, oggi sono qui per presentarti la nostra esclusiva cuccia del verde mondo, modello Lessi. Questa è una cuccia per cani di media taglia. Come per tutti i nostri prodotti abbiamo cercato di abbinare all'utilità che ne farete per tenere il vostro cane, anche di avere un prodotto particolarmente carino da redogiardino, visto che queste cucce sono cucce da esterno che andranno presumibilmente installate da parte vostra in giardino o altrimenti in una veranda o in un retro casa o comunque in un ambiente familiare, abbiamo deciso di creare questo modello particolare per unire l'utilità alla bellezza, creare una cuccia per cani ma anche un prodotto da redogiardino. Quindi avete la possibilità di tenere cani di piccola e media taglia. Le dimensioni della porta, abbiamo creato una porta abbastanza ampia per far entrare anche animali un po' più grandi. La porta misura 55x38, mentre la cuccia ha un ingombro di 132x104 per un'altezza di un metro, quindi di 100. Le dimensioni della cuccia sono un po' più della metà del suo ingombro, quindi abbiamo un 113x55 di profondità con l'altezza che arriva fino a massimo un metro. Le caratteristiche di questa cuccia, come abbiamo detto, è una cuccia da esterno, quindi abbiamo fatto il tetto in carta bituminata per renderla impermeabile e abbiamo dato al legno dell'impregnante ceroso all'acqua. In questo caso abbiamo usato una colorazione un po' cupa, quindi abbiamo usato il nero e un marrone per intanto proteggere il legno e per dare un senso a questa cuccia. Nella parte frontale abbiamo dotato la cuccia oltre che di una porta anche di una piccola finestrella che può essere aperta o chiusa a bisogno, insomma, per dare a reazione o meno in base alla stagionalità in cui dovrete tenere il vostro cane. Allora, niente, oggi per darvi un'idea della taglia della nostra cuccia e di quali animali può contenere, la taglia degli animali che può contenere questa cuccia, oggi ci è venuto a trovare il buon Ugo, che è un Golden Retriever, per darvi la possibilità di capire che, insomma, ecco, questa cuccia può ospitare anche cani sia di media che anche di grande taglia. Ugo, abbiamo visto che ci sta benissimo, è un po' qui, siamo nel terreno, quindi sente un sacco di odori, cose, quindi è un po' esuberante. Ecco, a noi ci interessava oggi ospitarlo qui in questo video per darvi appunto la possibilità di poter comprendere le reali dimensioni della cuccia, che di solito tanti clienti dalla foto non riescono poi eventualmente a capire le reali capacità del prodotto. Questa è la cuccia e questo è il buon Ugo, che è un Golden Retriever, che potrebbe tranquillamente stare all'interno, vivere all'interno di questa cuccia. Ma quindi, sperando di avervi fatto cosa gradita nell'aver creato questo modello di cuccia, per aver cercato di rendere più vivace una cuccia da esterno, quindi non solo esclusivamente una cuccia per il vostro cane, ma anche per l'abbellimento del vostro giardino. Vi ricordo che questo prodotto è un prodotto che troverete all'interno del nostro sito ilverdemondo.it, cuccia ad esclusivo marchio ilverdemondo. Se volete acquistarla, il nostro negozio è un e-commerce, potete ordinarcela online, pagamento è quello che più vi aggrada, bonifico, Paypal o carta di credito o pagamento alla consegna. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo che abbiamo altri modelli di cuccia all'interno del nostro sito e ne abbiamo il video, andatevi lì eventualmente a venere. Noi sperando che vi possa servire questo prodotto, vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima. Ciao a tutti!